voglio rubare un'affermazione ad un mio amico ma come siamo bellini ma come siamo bellini ma come siamo bellini e domenica l'abbiamo dimostrato siamo goduti come pochi perché andare a vincere in un in un campo come quello di Badesse scusami tanto ma è veramente tanta 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 roba un primo tempo da favola è vero che sì il secondo tempo abbiamo sofferto sì è vero ma è il primo tempo ragazzi il primo tempo è di altra scuola altra scuola adesso però l'azione del gol di Bellini l'azione Bellini, Cralosi Bellini la dovete mettere nel prossimo almanacco del calcio e non intendo almanacco toscano proprio almanacco del calcio nazionale perché quel gol è da far vedere a tutti a tutta Italia perché è un gol meraviglioso meraviglioso Angolo Futsal deve essere voluto questo video Angolo Futsal stasera tra poche ore finalmente si gioca si gioca il recupero in casa in casa in casa contro i tre colli tre colli sicuro si chiama la squadra quindi l'appuntamento è è tra poco eh agli ore e venti ore e venti al pallone mi raccomando mi raccomando chi può venga a sostenere a sostenere della squadra e che non può non so quello che si perde ciao a tutti a dopo grazie a tutti